A Parigi si consegna il pallone d'oro. L'anno scorso l'ambito premio è stato vinto da Messi per l'ottava volta. Ore 22,33, il pallone d'oro 2024 è Rodri. Ore 22,10, Ancelotti è il tecnico dell'anno. Ore 21,57, Lautaro Martinez è settimo, sesto Mbappé, quinto Haaland. Ore 21,45, il premio Yesen va a Emiliano Martinez. Ore 21. 20, il Real Madrid è il miglior club dell'anno. Ore 21,11, decimo posto per Harry Kane, nono posto per Croce e ottavo Yamal. Ore 21,05, Lamine Yamal ha vinto il premio Copa, assegnato al miglior giovane. A Parigi è tutto pronto per il pallone d'oro 2024. Grande attesa, naturalmente, per il vincitore, che a sorpresa non sarà Vinicius Jr., tanto che il brasiliano, e tutti i massimi esponenti del Real Madrid, hanno deciso per protesta di non presentarsi. Il favoritissimo ora è Rodri del Manchester City. Hummels e Dovbic sono stati i primi calciatori di Serie A, ad entrare in classifica. Sia il difensore che l'attaccante della Roma si sono piazzati al 29esimo posto. In Francia c'è soprattutto l'Inter, rappresentata da Lautaro, Cianolo e Sommer. L'argentino dovrebbe finire nella top 5, mentre Cianolo è ufficialmente al 20esimo posto. Meglio del Turco, restando all'Italia, Lucman dell'Atalanta, vincitrice della scorsa Europa League, il nigeriano si classifica al 14esimo posto, meglio di Nico Williams 15esimo. Un grado Rodri, Spagna Manchester City. Due gradi Vinicius, Brasile-Real Madrid. Tre gradi Bellingham, Inghilterra-Real Madrid. Quattro gradi Carvajal, Spagna-Real Madrid. Cinque gradi Erling Haaland, Norvegia-Manchester City. Sei gradi Kylian Mbappé, Francia-PSG-Real. Sette gradi Lautaro Martinez, Argentina-Inter. Otto gradi Lamine-Yammal, Spagna, Barcellona. Nove gradi Toni Kroos, Germania, Real Madrid, Ritiro. Dieci gradi Harry Kane, Inghilterra, Bayern Monaco. Undici gradi meno Philford in Inghilterra, Manchester City. Dodici gradi Florian Wirz, Germania, Bayern Leverkusen. Tredici gradi Dani Olmo, Spagna, Lipsia, Barcellona. Quattordici gradi Ademola-Lukman, Nigeria, Atalanta. Quindici gradi Nico Williams, Spagna, Athletic Club. 16 gradi Granit Giacca, Bayern Leverkusen. 17 gradi Federico Valverde, Real Madrid. 18 gradi Emiliano Martinez, Aston Villa. 19 gradi Martin Odegaard, Arsenal. 21 gradi Bukei Osaka, Arsenal. 22 gradi Antonio Rudiger, Real Madrid. 23 gradi Ruben Dias, Manchester City. 24 gradi William Saliba, Arsenal. 25 gradi Colpalmer, Chelsea. 26 gradi Declan Reis, Arsenal. 27 gradi Vitina, PSG. 28 gradi Alejandro Grimaldo, Bayern Leverkusen. Equalirentet de 29 TH Place for the 2024 Men's Ballon d'Or. Artem Dovbi. Chiocciola Ufficiale Roma Chiocciola Ucraina Chiocciola Meshamels Chiocciola Ufficiale Roma Chiocciola DFB Sottolineatura Team Cancelletto Ballon d'Or pic. Twitter.com barra 2 Ninfai Ea 25, Ballon d'Or Chiocciola Ballon d'Or. October 28, 2024. 29 gradi Artem Dovbi. Girona Roma. 29 gradi Mahumels, Borussia Dortmund, Roma.